Le prime sensazioni sono positive e questo in prospettiva consente di immaginare una stagione nella quale si potrà migliorare il risultato della precedente. Il presidente della Fidelissandria, Paolo Montemurro, tiene il punto sui traguardi che la squadra dovrà e potrà raggiungere nel campionato di Lega Pro, nonostante siano trascorse appena due settimane dall'inizio del ritiro. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, allora c'è da essere fiduciosi. Noi, l'ho detto dal primo momento, dobbiamo cercare di migliorarci. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci in tutti i sensi. Come squadra ce la stiamo mettendo a tutto a livello societario per fare in modo di avere un gruppo che se la possa giocare, senza illudere nessuno, però la base c'è e sono contento di questo. Il pensiero è rivolto al campionato, nonostante le gare da tre punti siano all'orizzonte. Domenica sera, fischio d'inizio alle 20, la Fidelissandria farà il suo esordio nella Team Cup contro il Bassano dell'ex Luca D'Angelo. Impegno che nessuno ha intenzione di snobbare e che di fatto offrirà le prime risposte anche sul lavoro svolto da Giancarlo Favarin. Test più che impegnativo, a differenza di quelli affrontati sino ad oggi dalla Fidelis, che resterà in ritiro a Norcia sino a venerdì, a differenza del Foggia che la sede del ritiro di Livi Sondoli l'ha lasciata con qualche giorno d'anticipo rispetto al previsto, preferendo lo Zaccheria ed il campo dell'aeroporto Amendola per proseguire la preparazione e avvicinarsi all'impegno di Team Cup di domenica sera contro il Ponte d'Era in casa. Esordio casalingo anche per la terza formazione pugliese impegnata in questa competizione. Il Lecce però anticiperà sabato sera, a fischio d'inizio alla 21, la gara contro l'Alto Vicentino. Obiettivo per tutte, spingersi al secondo turno per prendere ancora più confidenza con la prossima stagione.